Questa che vedete che ho in mano è semaglutide. Semaglutide sta cambiando radicalmente il mondo della nutrizione, del benessere stesso, ma anche del concetto dell'obesità stessa. La sta completamente ribaltando. Persone perdono chili in maniera molto molto efficace con l'utilizzo di questo farmaco, che è un analogo di una molecola che viene secreta all'interno dell'intestino. Ma basterà solamente questo per risolvere l'obesità? Credo che non basti solo la parte farmacologica. Io credo ancora nello stile di vita, credo ancora nella corretta nutrizione. Ecco perché non basta solo utilizzare semaglutide, ma bisogna anche evitare di mangiare come dei cinghiali, perché altrimenti l'effetto farmacologico non ha più effetto. Ricordiamoci che semaglutide, analogo del GLP1 intestinale, ha un effetto anoressizzante, quindi toglie completamente l'appetito e induce quindi il corpo a consumare più riserve di grasso. Attenzione però che come tutti i farmaci ha anche effetti collaterali. Non sono medico io, ma non consiglio comunque di utilizzarlo così com'è, solo, solamente sotto prescrizione medica e sempre andando sulla parte di stili di vita. Quindi il concetto è sempre su un buon lifestyle. Le abitudini corrette dello stile di vita fanno, se non vi sono patologie di base, quindi molto, molto conclamate, anche a livello genetico, cambiare radicalmente comunque modo di vivere, anche in maniera migliore, senza l'utilizzo comunque di farmaci stessi. si può stare comunque in forma e vivere tranquillamente bene.